Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Karim e poco meno del 70% della popolazione in Italia ossia 40 milioni di persone circa ricade in quello che viene chiamato il ceto medio o classe media ossia tutte quelle famiglie che hanno un reddito compreso tra 19.000 euro e 58.000 euro ossia tra due terzi e il doppio del reddito medio in Italia di 29.000 euro ed essendo la classe più grande della popolazione è anche una di quelle che porta effettivamente avanti il paese e non stento a credere anche una di quelle che lavora sodo e non certo di meno rispetto ai ricchi o ai poveri nonché però è anche una responsabile dei peggiori errori finanziari che vengono commessi in Italia e che ci rendono il primo paese in Europa per entrate da gioco d'azzardo e uno dei paesi in Europa con la più bassa educazione finanziaria per cui uno adesso potrebbe chiedersi ma perché nonostante queste persone lavorino così sodo e fanno parte del ceto medio solamente l'1% della popolazione ossia 400.000 persone sono i ricchi milionari in Italia oltre a tutti i fattori al di fuori della nostra sfera di controllo e che non mi metterò ad approfondire in questo video e che molti di voi avranno già pensato come la tassazione molto alta, i lavori sottopagati rispetto ad altri paesi, l'evasione fiscale e molte altre ragioni che sicuramente potrebbero essere vere ma sulle quali possiamo fare molto poco e in questo video voglio parlare dei 4 errori principali che secondo me vengono commessi dal ceto medio e che prevengono aumentare la ricchezza e causano di rimanere lì a moltissime persone che in realtà potrebbero uscirne e questo video secondo me è utile anche a chi non fa parte del ceto medio ma che commette ancora questi errori indipendentemente dal fatto che sia ricco o povero e indipendentemente dal fatto che tu faccia parte o meno della classe media lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube che aiuterebbe a mostrare questo video nella home page di moltissime persone fortunate e mi aiuta moltissimo e io ti ringrazio detto ciò mettetevi comodi e godetevi il video il primo errore costruisce un po' la base ed è tanto semplice quanto è importante per uscire dalla classe più povera e non rimanere incagliati in quella media ed è quello di non avere un fondo di emergenza lo so, lo so, l'ho già detto un sacco di volte e vi ho fatto già una testa così ma è giusto calcare ancora la mano e farlo entrare in testa anche ai più duri di comprendonio e mi rendo conto che non è facile risparmiare per qualcosa che non sappiamo nemmeno noi a che cosa servirà e quando ma l'alternativa è farsi trovare impreparati quando avverranno delle emergenze o degli imprevisti nella vita di tutti i giorni come ad esempio la rottura dell'auto o la rottura della caldaia e non vi sorprenderà che secondo un'indagine di Go Banking Rates il 70% degli americani non ha nemmeno 1000 dollari da parte per le emergenze e in Italia le cose vanno leggermente meglio ma non troppo considerando che anche qui la percentuale è superiore al 40% della popolazione che non ha 1000 euro da parte ed è chiaro che così facendo nel caso di emergenze si è costretti ad andare in debito e debito significa pagare degli interessi negativi sul capitale piuttosto che guadagnarci qualcosa ricordate noi vogliamo che l'effetto composto lavori per noi non contro di noi e con solamente una piccola riserva di denaro a partire anche da 1000 euro fino ad arrivare idealmente a 10.000 euro magari che possono andar bene probabilmente per la maggior parte della popolazione possiamo evitare di andare in debito e pagare interessi negativi su quel capitale per emergenze o imprevisti per me l'ideale è avere un conto separato dal vostro conto corrente principale in cui destinate queste cifre appunto per le emergenze o magari tenerle anche in contanti se preferite e un buon parametro per scegliere quanto deve essere grande questo fondo è considerare 3 o 6 mesi delle vostre spese minimali di sopravvivenza così che se un giorno doveste proprio perdere il lavoro cosa che non auguro francamente a nessuno avreste però comunque un cuscinetto che può coprirvi per almeno 3 o 6 mesi e comunque potreste sicuramente dormire più sonni tranquilli la notte il secondo errore è quello che commette la maggioranza della popolazione ed è quello che non investe abbastanza meno del 25% della popolazione in Italia investe parte del proprio denaro esatto ed è un disastro perché investire in strumenti che permettano di avere un rendimento di almeno 4 o 5% è fondamentale per preservare il capitale nel corso del tempo dall'inflazione e per farlo anche lavorare al posto vostro e generare dei piccoli rendimenti e ci sono tantissime modalità di investimento che permettono di ottenere rendimenti anche maggiori di questi magari del 7-8% e una delle più popolari e una di quelle che mette a disposizione le maggiori opportunità sono sicuramente i mercati finanziari molte persone sono semplicemente spaventate dall'investire soprattutto nei mercati finanziari e forse dovrebbero esserlo chi lo sa che cosa succede lì fuori e vedere tutti quegli alti e bassi dei nostri risparmi non è sicuramente qualcosa di piacevole per nessuno e può essere frustrante come tutte le cose che non si capiscono o che non si conoscono ma chi lo fa ha semplicemente capito che in quegli alti e bassi si nascondono delle opportunità che invece i ricchi stanno cogliendo e che permettono di ottenere rendimenti anche del 7-8% con dei rischi contenuti e la buona notizia è che per iniziare è veramente molto semplice ci ho realizzato tutta una playlist in cui spiego come iniziare da zero ad investire nei mercati finanziari e che ti lascio magari qui sotto in descrizione ad ogni modo però l'investimento nei mercati finanziari nonostante uno di quelli che offre le maggiori opportunità rappresenta comunque solamente una soluzione di investimento e ce ne sono moltissime altre a disposizione anche per i più deboli di cuore e se non le conosci è perché non si è iscritto al canale altrimenti sapresti benissimo di che cosa sto parlando quindi scriviti che cosa stai aspettando bene il terzo errore è almeno popolare quanto il secondo e ahimè riduce ancora di più la percentuale del 25% di reali investitori che abbiamo visto prima ed è quello di affidarsi solamente a strumenti di investimento troppo conservativi oppure per una grossa parte del vostro capitale come conti deposito, buoni frutti per i postali, obbligazioni a breve termine servizi di consulenza troppo costosi che alla fine non coprono nemmeno l'inflazione e che non permettono assolutamente nessuna crescita del capitale intendiamoci è giusto diversificare il proprio portafoglio e può aver senso introdurre anche alcuni di questi strumenti che abbiamo citato come ad esempio per il fondo delle emergenze oppure per la liquidità ma comunque secondo me sicuramente non per l'intera parte del capitale e in generale mai superiore al 50% ad esempio del capitale che avete a disposizione l'inflazione di fatto erode nel corso degli anni i vostri risparmi e questo può letteralmente svuotarvi le tasche nel lungo termine proteggersi investendo gli strumenti che permettono di avere un rendimento superiore al 4-5% è fondamentale per preservare il capitale nel lungo termine e per permettergli anche di crescere e farlo lavorare al posto vostro ho confrontato in un video specifico buoni frutti per i postali, conti deposito con altri strumenti di investimento più contemporanei e che permettono di avere rendimenti molto maggiori e che sicuramente li lascio qui sopra nella scheda quello che consiglio io per iniziare è di investire in strumenti molto semplici e molto diversificati come gli ETF internazionali e che storicamente hanno portato rendimenti in media del 7-8% senza correre alti rischi e che possono portarvi a una crescita almeno del capitale e dei rendimenti maggiori rispetto al 99% delle possibilità disponibili lì fuori il quarto errore è secondo me il peggiore e non di certo il meno frequente ed è quello di non pensare ai propri soldi a lungo termine ossia trascurando clamorosamente quello che quel denaro sarebbe potuto diventare se invece di sperperarlo lo avessimo investito e questo si traduce nell'acquistare continuamente cose di cui non si ha effettivamente bisogno come quella macchina che non puoi permetterti o come quel telefono dell'ultima generazione di cui non hai realmente bisogno oppure nello spendere nel gioco d'azzardo pensando di diventare più ricco dall'oggi al domani e questo molto spesso viene fatto o per impressionare gli altri oppure per pigrizia o per cercare di diventare ricchi dall'oggi al domani come nel caso del gioco d'azzardo e che però non fanno assolutamente nulla per migliorare la vostra condizione finanziaria nel lungo termine e che invece vi svuotano solamente le tasche ma qui viene il punto ragazzi se pensiamo al denaro a lungo termine e tagliamo fuori tutte le spese che non sono effettivamente necessarie e investiamo tutta quanta la differenza io vi assicuro e sono pronto a metterci la differenza di tasca mia che quell'1% di popolazione attualmente ricca potrebbe diventare anche il 4-5% da qui a 10 anni o che comunque tutti quanti anche applicando solamente uno di questi possono migliorare anche anni luce la propria condizione finanziaria e non parliamo di non godersi la vita e di non spendere per le cose effettivamente necessarie o che volete anzi ma semplicemente di tenere traccia di quelle che sono le vostre spese e non spendere per pigrizia o per impressionare gli altri ma cercando invece di direzionare quel capitale verso le cose che ritenete essere le più intelligenti e non far scegliere invece alla pubblicità o al marketing dove li spenderete e giuro che questi qui che ho detto contengono diversi errori che ho commesso anche io nel corso degli anni e su cui ho combattuto e combatto quotidianamente come quello di non investire strumenti troppo conservativi o di spendere per cose che non sono effettivamente necessarie quindi se hai fatto anche tu alcuni di questi errori non ti preoccupare perché è assolutamente normale ma solamente adesso di prenderne coscienza e di pensarci su perché che vogliate o no uscire dalla classe media non commettere questi errori almeno può migliorare moltissimo la vostra condizione finanziaria a prescindere dalla vostra situazione attuale e io vi posso garantire che se applicherete anche solo uno di questi punti che abbiamo visto in questo video e se lo farete in modo responsabile non mettendo il 100% del capitale nell'ultima criptovaluta appena uscita ma se investirete invece nel lasciare un mi piace per l'algoritmo di YouTube no sto scherzando ma se costruirete invece un portafoglio bilanciato e con strumenti che permettono di avere un rendimento del 7-8% magari la vostra condizione da qui a 10 anni sarà migliorata tantissimo detto questo ragazzi questi sono i 4 errori secondo me principalmente che vengono commessi in Italia se ne pensate altri lasciatele qui sotto nei commenti per condividerli con la community grazie mille per aver guardato tutto il video fino alla fine sentiti libero di aggiungermi anche su Instagram perché posto anche lì dei contenuti ogni giorno più o meno a tema più personale e di investimento anche se ti è piaciuto questo video lascia un mi piace per l'algoritmo di YouTube e iscriviti se ancora non l'hai fatto e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video ciao